Salve a tutti, nell'ultimo video vi ho mostrato come calcolare il valore minimo di un intervallo qua su Excel 2019, adesso vediamo come calcolare il valore massimo all'interno di un intervallo. Quindi qua cambio il testo, ci metto max, max, e cancello la formula del minimo. Ok, allora qua ho l'intervallo delle spese, qua ho l'intervallo dei guadagni, quindi vado qua su max spesa, quindi cominciamo dalle spese, andiamo qua in alto a formule, altre funzioni, statistica, e andiamo alla M, cerchiamo max, eccolo qua, max, e qua dobbiamo dargli l'intervallo. Quindi gli diamo tutta la colonna T, oppure solo questo intervallo, e gli diciamo ok. Ed ecco fatto, il valore di spesa massimo che abbiamo avuto in questo intervallo è stato 800. Se io qua metto 900 diventa il valore massimo, e quindi il valore cambia. Se metto 899 non cambia niente. Stessa cosa nei guadagni, apriamo questa volta la formula in manuale, uguale max, aperta e chiusa parentesi, e nel mezzo ci mettiamo l'intervallo, separato dai due punti, quindi U, due punti, U, ovvero tutta la colonna U. Invio, ed ecco fatto. Quindi se avete difficoltà a farlo in manuale, usate la precompilazione qua della sezione formule, qua abbiamo il massimo dei guadagni. Ed eccolo qua, 2000. Se metto 3000, questo valore diventa il massimo. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.